Un pool di ricercatori guidato dal professor Adamo, preside della Facoltà di Economia dell'Università del Salento, è al lavoro per fornire all'opinione pubblica un quadro dettagliato sui costi e sui benefici economici derivanti dall'istituzione della Regione Salento. Intanto interviene nel dibattito il segretario nazionale del Partito Socialdemocratico, Mimmo Magistro. Ove le popolazioni del Salento fossero d'accordo io non vedrei negativamente questa giusta aspirazione. Diciamo che noi, ove ci fosse questa battaglia da fare, siamo pronti a fare la nostra parte con tutte le nostre forze presenti sul territorio. Un comitato per il no alla Regione Salento. La proposta è del consigliere comunale leccese Carlo Salvemini. In un intervento apparso sul nuovo quotidiano di Puglia, il politico vendoliano, contrario a quella che definisce una secessione referendaria, scrive che individuare altrove le ragioni dei nostri ritardi o problemi risolti è una fuga dalle responsabilità che non aiuta le classi dirigenti a fare i conti con i propri limiti ed errori. E poi ancora non è chiaro, prosegue Salvemini, quale sia stato nel corso di questi 30 anni il danno subito dai salentini con l'istituzione della Regione Puglia. Non bastano gli slogan, ma servono indici, percentuali, tabelle. Infine Salvemini, in merito al baricentrismo della spesa, si chiede, anche a voler considerare vendola il peggiore dei governatori possibili, si possono mettere in discussione 40 anni di storia per 6 anni di presunto malgoverno. Non si può affermare, dice ancora Salvemini, che chi non vuole il referendum sia antidemocratico, perché i consiglieri comunali che lo discuteranno in aula sono democraticamente eletti. La replica del Movimento è affidata a una nota firmata da Christian Sturda, responsabile giovanile, che dice Dichiararsi contrari alla Regione Salento e promuovere un comitato per il no al referendum è pienamente legittimo, ma addirittura impegnarsi per togliere alla gente la possibilità di manifestare liberamente la propria opinione con un referendum degno solo dei paesi totalitari. La verità è che ai partiti politici l'opinione del popolo non interessa, anzi è un fastidio che è meglio non dover sentire. Un tema come la Regione Salento non può essere discusso come si è fatto fino ad oggi nella stanza dei partiti politici, troppo influenzati da interessi personalistici e dalle pressioni economiche di chi li finanzia. Voce al popolo, lo grideremo se sarà necessario, fino a quando l'ultimo di noi avrà la forza per farlo. Libertà al Salento, libertà al suo popolo, alla sua storia e alle sue tradizioni. Solo la politica riceve i diktat, noi li respingiamo, scrive ancora Sturdà, così come respingiamo ricostruzioni faziose come quella che vuole che il nostro movimento nasca in contrapposizione alla gestione baricentrica degli ultimi sei anni. No, caro Salvemini, non è corretto mettere a punto trappole. Tu hai tutto l'interesse a creare una contrapposizione vendola Movimento Regione Salento. Una trappola faziosa, la tua, è anche scorretta. Noi denunciamo il baricentrismo di 40 anni e non siamo contro nessuno. Siamo giovani, non pivelli, non utilizziamo furberie, ma le notiamo e reagiamo con vigore. Tra le ultime adesioni al progetto della Regione Salento si registrano quella dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, preseduta da Antonio Maggiore, e del partito dell'Unione per il Salento di Francesco De Iaco.